Mie cari amiche, amici di Ade Gabri del Baule della Nonna, ragazze voglio fare dei progettini molto molto simpatici e a tal proposito ho comprato questo filato, questo è 100 grammi ma sono 250 metri, è un cablato, lo vedete, è un sintetico però morbidissimo perché ragazzi sono sintetici e sintetici e l'ho pagato, stavo in offerta perché nessuno lo prende appunto perché è un cablato, cablato significa che è un insieme di lane, di fili vedete, come quando le donne facevano le rocche e univano uno, due, tre fili, tre capi, quattro capi e così è questo filo, se voi ci fate caso, vedete, è un insieme di fili e questo è il cablato, qui c'è scritto da lavorare con un 4-5, io ho provato il 5 è troppo e siccome mi si è perso l'uncinetto del numero 4, veramente ne ho presi diversi, l'ho lavato e ci ho passato sopra, ho comprato questo, il numero 4, io ho dato, l'ho passato nel talco, in modo che, perché era tutto appiccicoso della colla, così scivola meglio. Allora, ho preso queste sfumature, il lilla, il rosa, ho preso solo uno perché il rosa sinceramente mi interessa di meno, poi due tonalità di verde perché quell'altro più forte non ce l'aveva ed era un altro colore, due tonalità di giallo, ho preso tutti i colori molto forti, tranne, vabbè, il bianco e il panna che sono sempre due neutri da tenere e il rosso, eccoli qui, eccoli, adesso con questi colori vado a fare due progettini, prima voglio fare una stella con cui farò una piccola, un piccolo, come si dice, una piccola copertina con sopra ci andremo a mettere una testina di un animaletto, sempre fatta a uncinetto e possiamo farla o con il classico granny e cioè così, vedete, io questa l'ho fatta con un filato che c'avevo che è più sottile di questo, è così, però è sempre un cablato però ha meno fili di quello e insomma è più lenta la situazione, è meno veloce, capite, e voglio farlo, cioè voglio fare questo tipo di copertina per i bimbetti più piccoli, mentre un pupazzetto sempre per la nanna, la ninna nanna, per una bambina più grande di 4-5 anni, perciò andrò a fare due due cosine, allora chi trova difficoltà nel fare questo punto che adesso vi andrò a spiegare e cioè questa bellissima stella che andremo a fare con la quale voi potete, ci potete fare il classico centro tavola, ci potete fare una intera coperta con gli avanzi di lana, guardate io l'ho fatta perché poi l'ho regalata, se no ve la mostravo, allora chi vuole fare il classico granny, sulla playlist Uncinesto ci sono 3-4 piastrelle fatte, 4 motivi, 4 quadrati ve l'andate a vedere, ma questo è facilissimo, adesso insieme noi andiamo a fare questa meravigliosa stella e io mi sono rifatto un campioncino perché non mi ricordavo sinceramente come l'ho fatta, e allora amiche mie, adesso stabilisco i colori da usare e iniziamo questo nuovo progetto, anzi questi due nuovi progetti, iniziamo subito con 8 catenelle, allora una la stringo e non la conto, vedete com'è morbido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e lo chiudo in cerchio, prendo tutti i due capi e vado su con 3 catenelle, questo è fatto tutto con il punto nocciolina come lo chiamiamo noi, e allora una ripresa, due riprese, poi chiudiamo una volta, chiudiamo due volte, due catenelle e giù, tiriamo su una volta, due volte, tre volte, chiudiamo una volta, chiudiamo due volte, due catenelle, andiamo giù, due, tre, chiudiamo una volta, due volte, due catenelle, questo è molto più veloce, sto filato lavorato col 4 ed è super super morbidissimo, ok 1, 2, 3, 4, vado a finire con 10 punti nocciolina, 10, eccoli con 10 punti nocciolina, 2 catenelle e ci andiamo a bloccare qui, vado sul mio primo spazio e 1, 2, 3, vado giù, 1, 2, più questo qui della catenella sono 3 perciò basta, chiudo una volta, chiudo due volte, due catenelle, e due, due catenelle, e tre, e quattro, e sono 1, 2, 3, 4, adesso 2 catenelle, noi non andiamo a lavorare qui, ma qui, e rifacciamo il nostro gruppo di 4 punti nocciolina, divisi da due catenelle. lavorate insieme a me così è più semplice, allora 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, lasciamo un punto di base e andiamo di qua, e facciamo di nuovo le nostre quattro noccioline, vedete già? chiudiamo con le nostre due catenelle e andiamo direttamente sul primo spazio, guardate come è formato 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5, e infatti la stella ha 5 punti, ok, una volta che avete capito la tecnica, questa è tipo la tecnica granni, però io lo sto facendo con il punto nocciolina perché viene più puffoso, ecco che voglio dire, io ho pagato ogni gomitolo 2,50 euro, e questo è vediamo, 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 ma è in Turchia, però l'ho preso in questi mercati a poco prezzo, c'era un intero stand di questo acrilico perché praticamente essendo un gablato è difficile a lavorarlo, è difficile, insomma si spacca eccetera, ecco perché nessuno vuole stare un po' a appazziare, però quando uno compra una lana, anche acrilica che è, io lì ce ne stava una marea, bisogna toccarle perché quelle che scricchiolano e sono rigide, non bisogna prenderle, questa è un'altra tipologia, guardate, è sempre acrilico, vedete, è un filato normale, sottile, però è pure morbidissimo, ve lo mettete sul viso e vedete, oh perché, perché la roba che è rigida, poi quando l'andiamo a lavorare si sente che scricchiola, io quando guardo il tutorial delle altre signore, c'è uno in particolare che è tutto uno scricchiola, c'è, è brutto, bruttissimo, perché tanto il costo è quello, però bisogna saper scegliere, bisogna saper scegliere, e noi ci stiamo attenti, ok, tolta questa parentesi, noi stiamo, vedete, sui nostri quattro, noi uno, due, tre, e facciamo il nostro punto nocciolina, su questo spazio, uno solo, due catenelle, e ci andiamo a posizionare centralmente dei nostri quattro, e qui noi andiamo a rifare i nostri quattro punti nocciolina alternati dalle due catenelle, due, tre, e quattro, se parlo non riesco a contare, uno e due catenelle, su questo spazio, vedete, noi ci andiamo a fare il nostro punto nocciolina. una volta che avete capito la tecnica, poi è super 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 facilissimo, questo è il punto dove praticamente la divisione delle nostre punte della stella, perciò non ci lavoriamo niente, due catenelle, e andiamo qui, e ripetiamo quello che abbiamo fatto in precedenza, una nocciolina, due catenelle, qui nel centro, noi ci andiamo a fare il nostro gruppo di quattro noccioline. Vedete come sta prendendo forma la nostra stella? nocciolina, e allora due catenelle e chiudiamo, ci andiamo a piazzare sul primo buchino, e tre catenelle, andiamo giù una volta e due volte perché quello della catenella sono già tre, due catenelle, questo lo vedete, è il centrale delle nostre quattro, lo vedete? qui noi andremo a fare i nostri quattro punti nocciolina, però qui noi ce ne dobbiamo fare uno, e allora due catenelle, e andiamo, due e tre, le più esperte hanno già capito la tecnica, per le più giovani, adesso proseguo ancora, due catenelle, qui noi facciamo i nostri quattro punti nocciolina, e sono due, chi vuole rallentare la mia mano c'è una disposizione, chi la vuole velocizzare ce n'è un'altra, chi vuole ingrandire lo schermo perché non ci vede, o se lo fa mettere sul televisore, eccole qui, due catenelle, e andiamo qui, con una nocciolina, guardate questa, se ci fate una copertina, o ci fate un centro con il cotone sottile, viene stupenda, stupenda, stupenda veramente, due catenelle, questo qui è la nostra congiunzione, noi lo saltiamo, e andiamo qui a fare, iniziamo il nostro punto nocciolina, due catenelle, di nuovo un'altra nocciolina, ma già a me che non conto, se parlo non riesco a contare meccanicamente, e qui centralmente noi andiamo, eh centralmente sì, sì, andiamo a fare il nostro gruppo di quattro punti nocciolina, 3, dovete contarli, 1, 2, 3, 4, qui uno semplice, tirate su quando prendete il filo, 2 catenelle, e un'altra nocciolina, ecco qui, 2 catenelle, e proseguo, lo vedete, come sta crescendo la nostra stella, eccola, vedete, adesso 2 catenelle, e chiudiamo il giro, allora io vi consiglio di non cambiare filo, cioè, voglio dire, filato nel senso di colore, per i primi, 1, 2, 3, 4, adesso ne faccio un altro, e poi andremo a cambiare il colore del filo, e dare una sfumatura a questa stella, perché? Perché vedete, adesso sta prendendo piede la punta, se noi adesso la cambiamo, non va bene, e allora, ve lo posso dire, perché io ne ho fatte diverse di ste stelle, e le prime volte, con la frenesia di cambiare colore, no, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, il quinto giro, sempre, anzi, senza chiacchierà, quasi, il tempo passa, inerosorabile, e andiamo, qui facciamo quell'altro punto nocciolina, qui ne facciamo un altro, vedete, questi sono 1, 2, 3, 4, qui non dobbiamo andare a fare 4 noccioline, perciò qui, questa è libera, e noi ci dobbiamo andare a fare una nocciolina, ho fatto una ripresa in più, dopodiché, qui in mezzo, noi andiamo a fare i 4, le 4 noccioline, spero di riuscire a fare tutti e due i progetti, se no facciamo due puntate, però ho visto quelle due puntate, non piacciono, perché non le ritrovate mai le puntate voi, ma raga, 3, e questo sarebbe proprio da fare due puntate, perché i due progetti sono belli lunghetti, ok, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, qui noi andiamo a fare la nostra nocciolina, e 1, e 2, 2 catenelle, saltiamo sempre quella, la saltiamo sempre, perché quella è la divisione tra una punta e l'altra, e così sempre di seguito, man mano che noi cresciamo di giri, logicamente dobbiamo crescere, guardate già come sta prendendo forma, vado a 18 minuti, penso che potremo fare due progetti, eccola, la vedete che meraviglia che sta venendo, adesso ci blocchiamo qui, e andiamo direttamente sempre sul nostro buchino, bocchino, allora io adesso faccio diversi mezzi punti, in modo da bloccare il filo, e taglio un pezzettino, e lo cambio, cambio il filo, adesso sì che potete cambiare, lo vedete come ha preso piede, e adesso metto il giallo chiaro, e mi riattacco qui, questo lo metto sotto, così poi non devo bloccare i fili, 1, 2, 3, giù, giù, scusate, e chiudiamo due volte, 2 catenelle, questo lo tagliamo, perché tanto è ben bloccato, e vado sullo spazio vicino, come vedete, questo è il centro, guardate, è sempre lo stesso, lo vedete, dove andrò a fare, aspettate che se non lo sbaglio, le mie quattro, i miei quattro punti, nocciolina, questo è più morbido, almeno ritorto, è non Ha il riso, ma nuuu-e, cantare, E fatte le quattro, noi andiamo a riempire con una nocciolina gli altri spazi che man mano crescono. A ogni giro cresce un punto in più da fare. Eccolo, vedete? E però io qui ho fatto un macello, eccolo guardate, mi sono sbagliata, sono stata tanto attenta e non ho preso, me ne sono accorta perché io qua ho quattro punti nocciolina e lì ce ne avevo tre. E allora, com'è che si dice? Chi non ha la testa ha le gambe, in questo caso le braccia e le mani. E allora andiamo, questo era il centro, e andiamo con i nostri quattro punti nocciolina. Adesso li faccio, poi vi faccio vedere, continuiamo insieme. Ecco qui ho fatto i miei quattro, adesso vi faccio vedere che riporta. Bene, ora andiamo sul nostro spazio. E una E due E tre E tre Eccolo Qui ce n'è uno in più perché è all'inizio. Meno che non mi sono sbagliata. Eccolo 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 No, quattro Quattro No C'è qualcosa che non mi quadra, ragazzi, eh. Vediamo No, 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 è sempre così, è l'inizio, tre E due Vediamo E no Tre E se Tre sei Sì Qui ho sbagliato perché ho lasciato Uno, due, tre, quattro, una nucciolina sottostante Lo vedete? Eh, me ne so accorta io E allora, ragazze Amo, devo sguastare Eccola, ragazze Guastata, rifatta Adesso Io vado a cambiare la mia sfumatura di colore Ci metto un giallo più forte E poi Un verde acqua Andrò a gradazione Cioè come quello che c'ho Insomma Ho dato una scandagliata Ai colori che ho E giocherò su questi colori Perché io la voglio fare Unisex, ragazzi Perché? Perché così non abbiamo problemi Quando ci va di regalarlo a un bambino Va bene Se la dobbiamo regalare Scusate A una bambina È la stessa cosa Siccome davanti ho la telecamera Allora mi faccio sempre di lato Perché se no Non ci vedo Ecco perché E allora Ragazze Andiamo Con Gli altri Punti Puff Sempre Nel solito modo Questo possiamo tagliarlo Che ci dà fastidio Penso se è bloccata Ogni giro Noi cresciamo Naturalmente Quando abbiamo finito A fare il gruppo Della punta Noi guardiamo Guardiamo Come ho fatto io E ci rendiamo conto Perché se parliamo Non siamo concentrate Ma questo In tutte le cose No? E allora Torniamo con gli occhi Un po' Indietro E così Non facciamo sbagli Oppure Li correggiamo In tempo Allora Allora Tre Adesso Portiamo avanti La stella E quell'altro progetto Poi per i particolari Dobbiamo fare un altro Un altro tutorial Eccolo Eccolo Vedete Adesso Continuo a fare La mia stella Eccola qui La vedete La mia stella Le stelle Sono tante Ok Adesso vado A cambiare E metto Il filato verde Perciò Vado Con il mio filato verde E poi Farò due giri Di bianco E altri Tre giri Di colore Fino Arrivare Alla dimensione Giusta Per questa Piccola copertina Per la Ninna Nanna Del bimbo Questo Verrà fuori Un pupazzetto Con la copertina Ninna Nanna Scusate Come al solito Con il parrale E Continuiamo Come al solito Ecco le vie Sfumatore Giocherò Su queste Sfumatore Ok ragazze Ecco Una parte Di stella Perché adesso Io la proseguo Con il bianco Per dare una continuità Al bianco Poi rifaccio Le sfumature Allora Io questa Me la faccio Con calma Adesso Ve la metto Qui Così voi Magari Mentre facciamo Quest'altro progetto Gli date Un'occhiata E andiamo Con un altro progettino Veloce Allora Adesso qui Dobbiamo fare Un esagomo Perché Simuliamo Con due pezzi Uniti insieme Un Il corpo Di Di un bambino Mi capite È Semplicissimo Ragazze Semplicissimo E molto di effetto Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Ecco perché Non lo prende Perché il filo Si spacca Però Guardate Che morbidezza Un bambino Se la mette Sul viso Se lo accosta Addosso È morbidissimo Ok Lo chiudiamo In cerchio E andiamo a formare Il nostro esagomo Tre Catenelle Tre Catenelle E altri Due Due punti alti E sono Tre Uno E quando uno C'ha fretta Ragazzi E tre Due catenelle E tre punti alti Poi adesso Abituata al mio Una nocciolina Ho l'istinto Di fare la nocciolina E due E Tre Dai Andiamo piano Due catenelle E uno Ragazzi E due E Tre Due catenelle Tre Tre Allora Per un totale Di Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sono Due Quattro Sei È un esagono Giusto Contiamolo un po' Uno Due Due Quattro Cinque Due catenelle Questo è l'ultimo Sei Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Chiudiamo Con le nostre Due catenelle Qui Allora Io qui Vado a cambiare Il filo Perché Adesso Dobbiamo fare Metà parte Questa È il modo Anche per fare Una giacca Perché Crescendo Sempre in questo Modo Noi possiamo Fare Metà giacca Con La manica E La Parte sotto Adesso Vi faccio vedere Perché Ho fatto Un campione Aspettate Che lo riprendo Vedete Un attimo Eccolo Vedete Io ho fatto Un campioncino Lavorando Sempre così E crescendo Sempre Noi ci possiamo Realizzare Una giacca Per noi Questa è la metà Vedete Questa è la manica E questa è la parte Sotto Poi dopo qui Noi Ci rifacciamo Un altro esagono Che verrà piegato Vedete Dritto Rovescio Davanti Dietro È Bella Come idea No E allora Dai Andiamo Io adesso Qui Vado a Cambiare Il mio Filo E ce lo vado A mettere Non so Bianco Vabbè E reiniziamo E uno Poi dopo quella Lo fermiamo Due E tre Due catenelle E qui dentro Tre maglie alte Noi adesso Stiamo crescendo Il nostro esagono Poi Tra Un Un Angolo E l'altro Noi facciamo Soltanto Una catenella Perché se no Dopo si allarga Troppo E allora Uno Due E tre Due catenelle Una catenella E andiamo qui Due catenelle Una catenella Ecco qui Fino alla fine Fino ad arrivare Al lato opposto Ecco qui Noi abbiamo Sempre un esagono Eccolo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Siccome io adesso Ricambio filo Mi vado a rimettere Qui in mezzo E cambio Con il giallo Con il giallo pallido Pallida luna Dimmelo tu Se tornerà Magari Ridiamo un po' Andiamo Uno Due E tre E poi Gli altri due Questo trasciniamolo qua sotto Due catenelle E altri tre Punti alti Uno Due E tre Per arrivare qua Noi facciamo solo una catenella E tre punti alti E tre punti alti Andiamo Questo è un quadrato Ma esagonale E la stessa tecnica Ragazzi Gira rigira Il mondo è sempre rotondo La terra rotonda Nera E rettangolare Perciò si arriva sempre a quel punto E allora Due catenelle Qui in mezzo Al nostro gruppo Una catenella E qui Andiamo con le nostre Tre a maglia Alte Due catenelle E andiamo qui Con tre Due catenelle E tre maglie alte Una catenella E andiamo qua Tre maglie alte Eccolo Lo vedete Come sta crescendo In modo uniforme Vado Eccola qui La vedete Adesso Una catenella E chiudo Il giro E poi Mi trascino Il filo Perché Adesso Lo vado A cambiare E ci metto Quello più forte Allora Ragazzi Ogni Esagono Come vedete Qui È fatto Di cinque giri Ok Cinque giri Perciò Noi qui Ne abbiamo fatti Uno Due Tre E adesso Ne andiamo a fare Altri due Perciò Adesso Io metto Perciò 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 Il mio Filo Giallo Poi Poi Vado A ripetere Il verde Uno Due E tre E qui Faccio Il mio Gruppo Di tre Diviso Da Due Catenelle E tre Punti Alti Allora Uno Due E tre Due Catenelle L'ultimo Che taglierò Con il filo Una Catenella E vado Qui Con i miei Tre Punti Alti Vedete Come cresce Il giro Guardate Ve lo posso Assicurare Che in questo Modo Voi ci Fate Un golf Per voi Girando Sempre In tondo In tondo Girando Sempre Intorno All'esagono Per un Bambino Piccolo Per un Adulto Qui Ripetiamo I nostri Gruppi Tre Più Tre Vedete Vedete Adesso Sono due Poi Il prossimo Giro Saranno Di più Finisco Tutto Il mio Giro Del mio Esagono Eccolo Adesso Andiamo A fare Uno Due Tre Quattro Allora Noi Lo possiamo Fare Molto Ma Molto Più Grande Ma In braccio A un Bambino Un Bambino Una Bambina Cioè Non è che Possiamo Mettere Un pupazzone Enorme Mi ricordo Che Una volta Portammo Una bambola Alla nipotina Di mia sorella E la bambina C'aveva Quattro Cinque anni All'epoca E Comprammo In questo negozio Una bambola Sai Di pezza Con le trecce Bella Grandicella E allora Gliela Portammo E la bambina La guardò La guardò E mia sorella Ti piace Tatina Ti piace Tatina Ti piace Tatona Lei La prese Per le trecce Proprio La trascinò Per terra Ci guardò E disse Tatina Tatona Perciò Tanto Grandi Non le possiamo Manco fare Non è che Facciamo il pupazzo Per noi Giusto E allora Possiamo fare Un giro In più Però Ma Quante È troppo grande E pure ingombrante Dentro a sto letto Loro sono Questa è la ninna nanna Se lo portano A fare la ninna Ci vuole Un letto Per loro Per questi pupazzi Ragazzi Ragazzi Ridiamo E allora Continuiamo Tre punti alti Una catenella Tre punti alti E vedete Già come sta crescendo L'esagono L'esagono Una catenella Tre punti alti Di questi due Di questi due esagoni Cioè Di due esagoni Di questi esagoni Non ne dobbiamo fare Una Per fare La maglietta Di questo pupazzo E poi Sotto Andremo a fare I pantaloncini Una volta Chiusa La giacca Noi andiamo A creare Sempre con questo sistema Il pantalone Guardate È una cavolata Eccolo qui Guardate che meraviglia Adesso C'è una tecnica Per piegarla Non possiamo Prenderla Punta a punta Prendiamo Dalla parte piatta Così Ecco qui Questa È la nostra Giacchetta Metà Adesso ne vado A fare un altro pezzo E Ingrandisco Poi Ulteriormente La mia stella Guardate Adesso vi faccio vedere La vedete come cade La stella Poi qui ci facciamo La testa Del pupazzo In modo Armonioso Guardate Che meraviglia Mentre Quest'altra È più massiccia Anche se Il filato È Più Sottile Perché Mentre Questa Ha le cinque punte Vedete Questa invece È un quadrato Un quadrato E C'ha Molti più Spicchi C'ha le parti Piatte Ok Penso di essermi Spiegata Adesso Proseguo E poi ci vediamo A bientôt A bientôt Sì 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 Sì